Gli uomini delle Fiamme Gialle e della tenenza di Castelfranco Veneto, insieme al personale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Treviso e dello Spisal dell'ASL2, hanno sequestrato un'azienda tessile di altivole gestita da un cittadino cinese. Grazie al controllo congiunto sono stati individuati due lavoratori che lavoravano in nero e sequestrato l'intero stabilimento di 400 metri quadrati, gestito in condizioni di assoluto degrado e con diversi fattori di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Ci si è subito resi conto di essere davanti a una situazione particolarmente grave per quanto riguarda sia il rispetto della normativa relativa alla gestione dei rifiuti derivanti dall'attività tessile, sia per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel corso degli accertamenti le Fiamme Gialle hanno scoperto che all'interno del locale e nel piazzale antistante all'edificio erano stoccati ovunque pericolosi scarti della lavorazione tessile con apparecchiature elettriche ed elettroniche. Si parla di circa 4 tonnellate di rifiuti rinvenuti in loco, il titolare dell'impresa non era in possesso di alcuna documentazione che giustificasse effettivamente il trattamento corretto dei rifiuti secondo la normativa vigente prevista dal testo unico ambientale. I rifiuti speciali lo impone la legge e devono essere trattati e smaltiti avvalendosi di imprese specializzate. L'ispezione ha inoltre fatto emergere gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e della normativa antincendio. All'interno della ditta erano presenti numerosi cavi elettrici scoperti anche sopra le postazioni di lavoratori. Le uscite di emergenza invece erano sbarrate o struite da scarti di produzione con grave pericolo per l'incolumità dei dipendenti. Mancava ad esempio proprio la redazione del documento di valutazione dei rischi e anche per questi motivi quindi sono state successivamente elevate le previste sanzioni. Alla luce delle gravi violazioni riscontrate i finanzieri hanno dunque sequestrato oltre al locale e ai rifiuti anche i 19 macchinari industriali presenti, i capi semilavorati e i materiali vari per la lavorazione tessile denunciando il titolare dell'azienda alla procura della Repubblica di Trevisio.